ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 allora come potete vedere qua c'è il compressore attaccato al frutteto e guardate lì c'è anche il cardano nuovo potente che ha preso il padre e qui ci sono i teli pronti per la raccolta delle olive che dovrebbe iniziare domani però c'è un problema nel senso che guardate vi faccio vedere c'è nuvoloso e questa sera ha iniziato anche a fare qualche goccia leggera insomma però ha iniziato a piovere e domani domani mettono chi appunto non si sa bene però dovrebbe piovere cioè mettono pioggia tutta la giornata in sintesi però va beh tante volte il meteo sbaglia fatemi sapere che esperienza avete voi con il meteo e comunque vedremo insomma se riusciamo a iniziare oppure no perché per venerdì abbiamo prenotato la macina comunque va beh e invece domani sul canale principale sempre domani uscirà un video davvero potente di cui l'argomento probabilmente c'è l'argomento l'avete già intuito ecco vi faccio capire meglio in questo caso e ci sarà anche l'antares ma sarà un video diverso dagli altri anni difatti sarà molto più potente vedrete insomma per adesso però non vi anticipo nulla e magari potrei mettere qualche spoiler sul canale whatsapp e se volete cercarlo insomma lo trovate nel video che ho caricato il penultimo video insomma su questo canale trovate il link se volete andare a vedere va bene dai comunque io vi saluto tutti quanti buona serata fatemi sapere com'è il meteo lì da voi dai e se avete già iniziato oppure no a raccogliere le olive buona serata a tutti